Un po' una follia, diciamo, da un certo punto di vista, perché saranno sei staffette, che l'anno scorso era una sola, quest'anno sono sei, di cui quattro terrestri e due marittime, due in barca a vela, e le terrestri ce ne sarà una, un pezzo in bicicletta, e una addirittura a nuoto, da Vennazola a bocca d'asse. Il significato di quest'anno è quello di volere sempre una rinascita, una speranza, cioè che finisca la guerra. Noi come Proloquo abbiamo partecipato a due missioni di aiuto in Ucraina, che possiamo lasciarci alle spalle quello che è la pandemia, e altri significati, noi avremo anche l'appoggio dell'Associazione Antiviolenza contro le Donne, che è partecipata alla nostra staffetta, e quindi per noi hanno scopo anche sociale, anche green, perché in occasione verrà fatta una ripulizia del porticciolo dalla plastica, e quindi ci sembra anche un gesto significativo da questo punto di vista. Dopo l'anno scorso si riparte con la staffetta 2.0, nata quindi con la pandemia, ce l'hanno passato, quest'anno nuovamente ci ha voluto farla con il Consorzio delle Proloquo, il primo consorzio nella nostra nazione, di cui Genova va a Cefiera, con 11 Proloquo, a testimonianza di come Genova sia una città con tanti quartieri, una città policentrica. Questo è il vero centro dell'iniziativa, cioè la possibilità di riuscire a valorizzare la nostra città e il nostro territorio per tutti i suoi centri, per tutti i suoi centri storici, perché sono veramente da potenziare e da valorizzare. Noi come Camera di Commercio stiamo molto attenti al territorio, collaboriamo con i nostri centri integrati di via per poter essere presenti su tutti i territori e riteniamo che l'azione delle Proloquo sia molto importante per riuscire ad animare i singoli territori del nostro territorio, ma come vi dicevo prima, considerandoli tutti come dei veri e propri centri storici e hanno veramente dei grandissimi punti di forza che possono essere valorizzati e dobbiamo farlo tutti insieme. Cerchiamo di portare un messaggio alla città, avremo una diretta video, avremo un mercatino in piazza Matteotti tutto il giorno e la sera ci sarà il concerto finale di Zena Singers Band, che è un compresso genovese, quindi a sottolineare la genovesità della nostra iniziativa. Siamo cresciuti come Proloquo, siamo 11 quest'anno e stiamo crescendo, forse nasceranno anche due altre dentro l'anno, quindi cerchiamo di portare un messaggio grande e importante alla nostra città. Quello tra il Comune di Genova e il Consorzio delle Proloquo cittadine è un rapporto speciale che si svilupperà anche con un omaggio. Un rapporto forte, un rapporto che l'amministrazione comunale vuole fare anche crescere sempre di più, siamo già prossimi con l'intitolazione anche di una via proprio alle Proloquo d'Italia, questo su spinta del Consorzio, su forte richiesta del Consorzio e anche su questo saremo la prima città della nostra nazione. Quindi un modo per rinsaldare sempre questo legame con i territori, con le Proloquo e con i tantissimi volontari che le rappresentano. Grazie. Grazie. Grazie.